La cosa importante con il Presidente qua era vedere un po' lo che aveva fatto la squadra questi giorni, le partite che avevano fatto e lui ci ha congratulato dello che hanno fatto i giocatori e lo che abbiamo fatto tutti. Questo per me era la cosa più importante. Dopo abbiamo parlato della possibilità del rinnovo che sicuro che ti fanno la domanda le Sky nella conferenza stampa. Abbiamo detto tutte e due insieme che abbiamo quasi 15 partite fino a gennaio e dobbiamo concentrarsi nelle partite. Quindi si vuol dire che dopo il 23 dicembre verrà affrontato il tema? No, non abbiamo fissato una data ma abbiamo condiviso che le partite che abbiamo, tante partite che abbiamo, sono così importanti che è meglio concentrarsi nelle partite.